Un attimo che abbiamo una nota particolare, una signora che vuole fare un ringraziamento particolare Buongiorno a tutti, mi chiamo Anna Maria Barbini e con mio marito sto percorrendo in camper questo meraviglioso cilento Stiamo battendo a tappeto i paesini piccoli per noi molto suggestivi, così come è suggestiva questa rivocazione Di cui ringrazio l'organizzazione, la proloco in particolare della persona di Antonio Pellegrino Che ci ha accolto cordialmente con il nostro camper, ci ha fatto sostare Abbiamo vissuto l'emozione della tarantella ieri sera e di questa suggestiva rivocazione Che fa parte della memoria storica dei nostri territori Vorrei aggiungere, permettetemi, una nota campanilistica Tutti i momenti gioiosi sono stati sottolineati ieri sera con la tarantella e oggi durante la festa Dagli organetti che vedono la loro patria in Castelfidardo che è a 10 km da casa mia In provincia di Ancona, patria mondiale della frisofonica e degli organetti Grazie a tutti Grazie Allora continuiamo, adesso fra un po' ci sarà la pisatura con i puoi